Giorno importante per l'Aquila, ma soprattutto per la Regione Abruzzo. Nel giorno dell'inaugurazione dell'emiciclo, programma fitto e pieno di eventi. Si è iniziato con l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia e Molise, in cui si è firmato il protocollo d'intesa. Si è tenuto poi un importante convegno di livello internazionale sullo studio delle calamità naturali, in cui ha visto protagonista il divulgatore scientifico e geologo Mario Tozzi. Il geologo sottolinea che in campo di prevenzione bisogna ancora lavorare molto, lanciando così un appello al nuovo governo. Non esistono le catastrofi naturali, diciamolo proprio, lo voglio ripetere, le catastrofi naturali non esistono. L'unica catastrofe naturale è l'impatto con l'asteroide, quello, gli umani non ci possono fare niente. Ma tutto il resto dipende da noi, cioè quelli sono eventi naturali che diventano catastrofici solo per colpa nostra. Il caso dell'Aquila già era particolare, perché un terremoto di magnitudo 6,3 non può fare 300 morti. Il caso di Matrice è ancora peggio, perché il terremoto è molto più basso e fa gli stessi morti su un territorio che ha meno densità di popolazione, dunque ancora peggio. Poi siamo arrivati all'estremo di Casamicciola, un terremoto di magnitudo 4 che fa due morti. Queste cose non possono avere ragione di esistere in un paese moderno. Nel contratto di governo attuale io non ho visto questi punti. Dal punto di vista ambientale magari fossero rispettate quelle cose, perché la cosa che si dice molto chiaramente è che questo paese ha costruito troppo e dunque il consumo di suolo sarà zero. Questo è un punto fondamentale. Basta costruire, perché costruendo in certe zone crea un rischio che non c'era. Dunque dal punto di vista della ricaduta sul rischio naturale è una legge che blocca il consumo di suolo, che vedo essere presente in questo contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle, è un'ottima cosa.